Arra! I pirati hanno raggiunto l'isola del tesoro! Noi siamo il team Umizumi! E provate a indovinare? Oro diamante o da film in blu! Cantando via da mondo può valerti più! Noi amiamo moltissimo praticare lo sport! Piacere anche a te fare sport! Superumi! Beh, sei fortunato! Perché oggi parteciperemo al più grande evento sportivo di tutti i tempi!